Ciao a tutti e benvenuti a bordo della mia 997 GT3 Cup andiamo a vedere adesso un bel giro all'interno dell'Arena 48 qui al Motor Show di Bologna ovviamente una delle fasi importanti è la partenza qua visto che si parte a fermo poi eccoci subito nelle due curve sinistre che sono il punto più veloce del Motor Show è importantissimo vedete agganciare i due cordi all'interno questi permettono di mettere seconda poi terza raggiungere terza limitatore e poi frenare fino in prima marcia questa è la curva più lenta del Motor Show vedete c'è tantissimo sovrasterza in uscita seconda marcia che si tira fino al limitatore frenata di nuova grossissimo sovrasterza in ingresso importantissimi anche qua rimanere bene agganciati all'interno del cordolo poi seconda limitatore si scala di nuovo in prima ci si aggancia di nuovo nel rampino a sinistra e si ritorna dove prima eravamo partiti da fermo prima, seconda, terza quasi limitatore si frena seconda marcia si aggancia a sinistra qua è difficilissimo veramente essere veloce qua è molto importante la velocità di percorrenza seconda, terza di nuovo limitatore in terza circa 140-150 km all'ora e di nuovo in primo vedete che la macchina è sempre o in sottosterzo oppure in sovrasterzo in strada di curva anche perché qua siamo obbligati a correre con le gomme rain e non con gomme slick anche se oggi è una bellissima giornata soleggiata seconda qua di nuovo qua vedete è molto difficile perché man mano che i concorrenti girano portano dentro un po' di quel brecciolino all'interno della traiettoria quindi sembra quasi di avere una prova rally più che una prova pista di nuovo terza seconda e qui ecco molto bene adesso la traiettoria mi sono riuscito bene a agganciare qui e probabilmente qua poi sono andato anche a firmare il giro record della pista terza di nuovo frenata in cui frenata anche lo stesso i miei problemi anche perché siamo obbligati a fare il tacco punta in scalata quindi frizione, freno e acceleratore contemporaneamente seconda, terza, di nuovo seconda, dentro, si aspetta tantissimo e poi in uscita, sterzo dritto, grosso sovrasterzo seconda subito, frena, prima marcia di nuovo qua pulito, lento in ingresso perché poi più riesco a mettere dritte le ruote e più riesco a essere veloce bandiera a scacchi ecco finita la mia manche qui all'Arena 48 grazie a tutti grazie a tutti